Ci spostiamo ora ad este nel Padovano per andare a conoscere delle calzature molto particolari che fanno bene al piede e alla natura e questo grazie alla lavorazione della pelle che utilizza i tannini. Andiamo a scoprire insieme di che cosa si tratta. La scarpa è fatta tutta con pelli conciate, con tannini, cioè con i prodotti degli alberi. Soprattutto all'interno noi ci mettiamo tutte pelli a concia vegetale. Lui è Gigi Perinello, un ribelle per natura, che grazie alla sua passione e al suo entusiasmo per il mondo delle calzature nel 2008 decide di voltare pagina e di abbracciare una produzione che mettesse ancora al centro dell'attenzione il benessere del piede ma anche la salvaguardia dell'ambiente. Ad un certo punto della mia vita io vivevo nelle scarpe perché vendevo materie prime. Ho capito che il piede non era più protagonista della progettazione della scarpa e quindi ho deciso di fare delle mie scarpe, naturalmente in modo semplice, ho incominciato con le polacchine, la scarpa è più semplice da fare. E ho scoperto queste pelli a concia vegetale che sono l'elemento principale della mia scarpa. La pelle conciata al vegetale è una lavorazione sostenibile che utilizza i tannini di mimosa, castagno e quercia, anziché il cromo tipico della concia chimica. L'uomo non so come abbia fatto, millenni fa aveva scoperto che gli alberi producono i tannini che si trovano anche nel vino. I tannini sono dei polifenoli astringenti che hanno una capacità batteriostatica, cioè controllano lo sviluppo dei batteri e sono concentrati dagli alberi nella corteccia. Gli uomini prendevano la corteccia, la trituravano, la mettevano in buche a terra a strati, pelli cortecce, pelli cortecce, poi ci buttavano acqua, l'acqua scioglieva i tannini contenuti nella corteccia e le pelli li assorbivano e si conciavano, cioè non è la colorazione, è la concia, cioè diventa eterna la pelle, non si decompone più. È rimasto un comparto di concerie nel Pisano che producono pelli in questo modo, estraendo prima i tannini dalla corteccia, questi tannini vengono poi sciolti in acqua, viene messa la pelle all'interno, immersa in quest'acqua, viene lasciata lì a seconda dei spessori della pelle dai 20 giorni a un mese e mezzo e poi viene fatta asciugare in solai di legno e poi viene ingrassata perché dopo questo asciugamento la pelle si rigidisce, viene messa in botti, tipo le botti del vino, viene fatta girare per 10 ore insieme con dei grassi vegetali che assorbe perché girando si scalda la pelle e si allargano i pori della pelle, assorbe questi grassi e diventa una pelle morbidissima. Un processo naturale e sostenibile, quello dell'estrazione dei tannini, attento alla cura dell'ambiente. Noi abbiamo la più grossa azienda in Italia a livello mondiale, la multinazionale, che estrae i tannini dal castagno e dalla quercia. Questi signori devono soprattutto curare i boschi che sono quelli che gli danno la materia prima. Hanno tutti i boschi certificati, va bene, e quindi li curano, li allevano in modo tale da avere sempre una materia prima sana e utilizzabile. Cioè per avere i tannini bisogna avere i boschi e quindi la cosa principale è quella di difenderli. Delle vere e proprie opere d'arte, confezionate minuziosamente a mano, scegliendo materie prime attenti in primis al benessere del piede. Calzature sane, quindi resistenti e durature nel tempo. La vera caratteristica importante delle nostre scarpe è l'interno, il fatto che sia foderata tutta di pelle bovina a concia vegetale, vedete? Queste qui sono pelli che non sono né verniciate né colorate perché la verniciatura creerebbe una barriera al perfetto assorbimento del sudore e io non voglio. E poi non voglio che il colore, il colorante vada ad inquinare il piede. Poi il fatto che siano conciate con tannini produce l'effetto piacevole che non puzzano mai le scarpe e che la sudorazione viene assorbita bene e in più una delle cose che sta succedendo negli ultimi anni è che ci sono moltissime allergie da cromo. Le mie scarpe risolvono ogni tipo di allergie da cromo, oltre ad avere il piede che è avvolto da qualcosa di estremamente morbido. Io punto anche molto sulla durata della scarpa perché la scarpa se noi vogliamo fare qualcosa per questo mondo dobbiamo cambiare i nostri stili di vita e quindi consumare meno. Quindi io devo fare delle scarpe che siano riparabili e che durino molto. Le calzature di ragioniamo con i piedi non inquinano quindi nel corpo e nell'ambiente perché non utilizzano sostanze tossiche e poco tollerabili. Caratteristica che le contraddistingue dalle altre calzature confezionate con materiale sintetico presenti nel mercato. Un anno e mezzo fa a Bologna a microbiologia ho fatto 15 paio di scarpe, la sinistra fatta in sintetico all'interno della fodera e la destra con la fodera con le nostre pelli. Abbiamo fatto sei mesi di tamponi e le abbiamo fatte portare a degli studenti e ogni settimana facevamo un tampone per vedere lo sviluppo batterico all'interno della scarpa. Beh quella a sinistra in sintetico dopo due settimane aveva miliardi di batteri che si erano sviluppati e quindi abbiamo anche smesso di fare analisi. Mentre invece in quella di destra con le pelli a concia vegetale abbiamo scoperto che i batteri non si sviluppavano, cioè veniva mantenuta l'esatta carica batterica del piede. Quindi ecco perché l'effetto batterio statico dei tannini. I tannini controllano, non ammazzano niente ma controllano e lasciano il nostro piede a volto dei batteri naturali che deve avere.